Benvenuti su Strategeti, sono Riccardo Mancinelli e oggi siamo in compagnia di Mary Tommaso. Ciao Mary, benvenuta. Ciao Riccardo, grazie. Grazie per aver accettato questo invito. Intanto dici, raccontaci cosa stai facendo adesso come attività lavorativa. Ok, allora in questo momento sono conversation designer. Come già mi è successo quando ero assistente virtuale, devo spiegare cos'è perché apparentemente mi focalizzo o mi attirano e mi dedico quindi ad attività abbastanza innovative. Conversation designer è la persona che si occupa di scrivere o riscrivere e progettare il flusso delle conversazioni che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Quindi i chatbot, i voicebots, perché affinché siano naturali e quindi l'interazione che gli esseri umani hanno con l'intelligenza artificiale deve essere comunque curata da una persona che si occupa appunto della parte linguistica. Quello che si occupa del conversation designer, da quello che ho capito, è che abbiamo un'interazione uomo-macchina tra un chatbot e una persona e tu la rendi più una conversazione. Esatto, l'hai detto proprio benissimo. Quindi ti occupi della parte di flusso del dialogo e fare in modo che sia di fatto una conversazione, qualcosa di più umano possibile. Esatto, perché... Sì, sì, non ti volevo interrompere, volevo solo capire quanto ti aiuta il background che hai su questo tipo di attività. Tantissimo, infatti penso che sia, non sia affatto casuale appunto il fatto che abbia avuto questa transizione al conversation design, perché ho visto che tra tutte le varie nuove attività, soprattutto legate all'intelligenza artificiale, era una cosa che veramente mi veniva bene. Poi tra l'altro negli anni, non solo con la traduzione, cioè con la traduzione diventi proprio un maniaco di trovare il modo migliore per esprimere in un'altra lingua qualcosa che una persona ha detto, ha scritto. E poi con le altre attività, facendo la segretaria, l'assistente, cerchi sempre di trasmettere in modo diplomatico quello che magari anche nelle mail, nella comunicazione in generale, di trasmettere appunto in maniera diplomatica, nel migliore dei modi. Quindi è stata proprio un'evoluzione naturale. Infatti molti pensano che questo ambito dove c'è talmente tanta tecnologia e si parla in intelligenza artificiale e machine learning, in realtà c'è linguisti tra computazionali, fonetici, madrelingua, traduttori, cioè ci sono una schiera di persone proprio che devono avere questo, diciamo, questo compito anche difficile di far rendere poi alla fine la comunicazione più efficace possibile, no? Esatto, sì. E volevo capire, quindi tu cosa fai effettivamente? Facci un esempio di modus operandi, di come ti muovi quando devi progettare un chatbot o un voicebot. Dipende dall'utilizzo, perché attualmente, diciamo, ci sono due grandi utilizzi. Uno è il marketing, quindi i chatbot per Facebook, per esempio, per Facebook Messenger. E lì, in un certo senso, è più semplice perché con il marketing tu in realtà stai trasmettendo un messaggio, stai diffondendo un messaggio che alla fine è pubblicitario, promozionale. E lì è facile perché uso, io uso ManyChat, che è un programma che praticamente ti porta a disegnare il flusso in maniera molto semplice. L'altro utilizzo, che in realtà non è solo uno, però dividiamo appunto tra marketing e non marketing, è quello che in realtà mi affascina di più ed è la possibilità, quindi, di creare dei chatbot che abbiano un utilizzo più legato al sociale, per cui, per esempio, non so, la salute. La salute, sì, esatto, è uno dei grossi campi ed è quello in cui vorrei appunto incursionare con una futura start-up. Per esempio, adesso sto testando un chatbot molto interessante americano, praticamente è un terapeuta di terapia cognitivo-comportamentale, credo, un ramo della psicologia moderna, che è stato creato da psicologi americani che hanno lavorato, non so, una ventina d'anni, Stanford o Harvard, non mi ricordo una di queste due, e hanno creato, loro sostengono appunto che non c'è bisogno di un terapeuta, di una persona, perché gli strumenti o comunque i metodi, le metodologie della terapia possono essere realizzati anche attraverso chatbot. Per cui, per rispondere poi alla tua domanda, cosa faccio? Quello che non è quindi marketing, attraverso disegno praticamente con una sorta di flowchart, con diversi programmi, quello che è la conversazione, quindi prevedendo quello che potrebbe dire, scrivendo quello che dice il chatbot e prevedendo quello che potrebbe dire la persona. Fermo restando che poi questi programmi sono tutti in machine learning, per cui imparano questi chatbot, diciamo, imparano in base a quello che poi è l'input delle persone che interagiranno. In questo ambito bisogna allenare il chatbot, bisogna avere un trading data, insomma un set di frasi con cui si potrebbe dire la stessa cosa e quindi tu ti stai specializzando su quale lingua in particolare? L'inglese? Sì. L'americano? L'inglese, italiano e spagnolo. In realtà lavoro con tutte e tre le lingue, sì. I progetti che voglio realizzare ora, visto che vivo in Spagna e che dove vivo c'è un ecosistema pronto e anche abbastanza avanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quindi penso mi piacerebbe sviluppare dei progetti qui. E l'aspetto anche più psicologico, perché ad esempio nel marketing si fanno le buyer personas, ne avevamo parlate anche in un episodio con Debra Votà, qui c'è anche la bot persona, cioè devi impersonificare il bot dei tratti, insomma. Esatto, devi... il bot persona viene creato, cioè qui abbiamo appunto una persona in più perché si pensa alla brand persona, quindi si definisce quello che è il brand che userà il chatbot. Poi si disegna quindi, si progetta, si definisce chi userà, chi è il cliente, l'utente che userà il chatbot e ovviamente si crea una personalità perché non è lo stesso appunto una personalità che può avere un chatbot che interagisce con persone anziane, un chatbot che interagisce con millennials. Tu hai avuto modo di creare qualche personalità, ti immagini una persona che conosci, ti riconosci in quel bot? Come fai quando provi a disegnare? No, penso... studio il cliente, quindi il brand e penso a quello che potrebbe essere un suo alter ego o un suo assistente, no? Cioè se fosse, se per esempio un cliente dovesse scegliere il suo collaboratore ideale, come sarebbe? Perché alla fine lo vedo così il chatbot, come un collaboratore che però è presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. C'è una prima fase di analisi, di controllo del posizionamento per costruire la bot persona e a chi ti rivolgi, poi ci sarà sicuramente un allenamento e lì viene la parte tosta perché comunque creare, cercare di allenare un bot non è così facile, è un po' pigro il bot quasi, no? Ma in realtà con il programma che uso di Google che è stato uno dei primi, credo, forse... Non so se è stato quello del piccolo... Parli di dialogue flow? Dialogue flow, sì, esatto. Lì, grazie agli input che riceve, impara. È vero quello che dici che non è così... Non ha l'intelligenza che abbiamo noi esseri umani, che è molto più flessibile che chissà perché ha anche un po' di intuitività, cosa che l'intelligenza artificiale non ha. Però questo vuol dire che quindi tutti i giorni dobbiamo noi, che come conversation designers, dobbiamo vedere questo feedback, questi input, modificare e continuare a insegnare quindi al chatbot. Sì, perché ovviamente quando il chatbot non capisce o viene abbandonata una conversazione voi dovete capire il motivo e come migliorare l'esperienza. E comunque c'è un'altra cosa che vorrei dire, che attualmente sì, siamo agli albori, ma ci sono anche tecniche per rendere una conversazione comunque gradevole senza che ci sia troppa... che ci siano troppi input da parte dell'essere umano. Perché? Perché se ci sono troppi input, cioè se io scrivo perché mi aspetto una risposta come se fosse con un umano, ovviamente è motivo di grande frustrazione, ma si possono sempre creare esperienze piacevoli limitando appunto la possibilità alla persona di scrivere e quindi creando magari dei bottoni con una risposta o due risposte preconfezionate. Sì. È un'alternativa. Meno oneroso, meno impegnativo per chi lo deve utilizzare. Anche perché poi lo utilizza probabilmente per fare una cosa più veloce, per evitare... Senti, una cosa che volevo chiederti se c'è molta differenza tra progettare un chatbot o un voicebot, perché le persone non sanno se orientarsi in una direzione o nell'altro o se avere un ibrido. Sì, c'è una differenza perché quando progetti per un voicebot, per esempio, non puoi dare più di due possibilità alla persona. Cioè, faccio un esempio. Se vuoi, non so, mangiare una pizza... Vuoi mangiare una pizza margherita o una capricciosa o una napoletana, l'essere umano non li registra, anzi è già dimenticato, mentre con un chatbot puoi creare ovviamente nei limiti di quello che poi diventa gradevole a livello di interfaccia, però attraverso i bottoni puoi mettere 4-5 tipi di pizza diversa. Quindi la voce, sì, deve tenere in considerazione altre cose. Oltre al fatto che, ovviamente, un utente che usa un voicebot non può usarlo in tutti i suoi contesti. Cioè, magari si sta guidando, sì, è stupendo usare un voicebot se nella metropolitana magari è meglio un chatbot. Esatto, mi ricordo anche che c'era un test dei primi voice recognition che dicevano che in ufficio, non so, per chiamate confidenziali le persone non volevano dirlo a voce alta. Eh sì, infatti. È vero che c'è poi il vantaggio che hai i comandi per voce, hai le mani libero, puoi anche non guardare, quindi hai i suoi vantaggi. Quindi bisogna sempre tenere in considerazione nel conversation design del contesto in cui l'utente si trova quando userà l'interfaccia. Eh sì, abbiamo imparato questa lezione. Speriamo di averla imparata perché ancora... Perché vedevo che guardavo la storia del voice design e vedevo che è dal 2006, perché io ormai so per certo che una tecnologia, se non sono passati 10 o 20 anni, non si impone sul mercato. Questo l'ho notato anche quando dicono, ah questa è una novità, vado a vedere quando è nata e riesco a capire più o meno se effettivamente il mondo della ricerca, dello sviluppo, cioè sono maturi come progetti o no. E della voice design vedevo dal 2006, poi nel 2008 c'era già la ricerca vocale, nel 2011 Siri, nel 2014 Amazon Echo, poi nel 2016 Google Home, cioè ci sono tre settori, i smartphone ovviamente che hanno l'integrata. L'automotive che ovviamente sulla plancia hanno molti comandi vocali e poi ci sono i voice assistant e i smart speaker, che mi aspettavo l'anno scorso che avessero più esplosione. Detto questo, l'ironia della sorte è che parliamo tanto di virtual voice assistant e tu vieni da un'esperienza imprenditoriale che è importante, che è nata proprio come assistenti virtuali, che adesso si rubano il posto nei motori di ricerca, no? Sì, esatto. Inizia è stata, se racconti brevemente questa storia. Dunque, io ho iniziato nel 2009, credo, ho capito che non ero fatta per lavorare da dipendente o comunque per lavorare in ufficio. Ti blocco subito, come hai capito che non eri per l'ufficio? Ma perché ero, cioè cambiavo sempre lavoro, ero sempre insoddisfatta e quindi mi sono detto, ok, venti lavori, magari uno poteva anche andare bene, allora sono io che non vado, cioè che non vado bene e che non sono fatta per questo tipo di lavoro. Poi ora, dopo quasi, cosa sono, dodici anni, ho capito, cioè sono cresciuta e ho capito che il motivo è perché non questo tipo di attività che facevo non era coerente con i miei valori. Il mio valore principale, quindi quello su cui si regge tutta la mia vita, è la libertà. E quindi ovviamente è ovvio che fossi sempre insoddisfatta. per cui la prima esigenza è stata quella di lavorare da casa, poi è cresciuto in un lavorare da ovunque nel mondo e quindi ora è coerente con il valore della libertà. E ho visto che c'era questa opportunità già abbastanza matura negli Stati Uniti di virtual assistant e ho creato, ho iniziato a fare questa attività e poi in seguito ho creato anche un corso di formazione per assistenti virtuali e è la prima piattaforma in Italia per la formazione di assistenti virtuali. Poi, dopo un po', mi sono, è brutto dirlo, però ha sempre a che fare con i miei valori che il cambio, l'evoluzione, la crescita costante, quindi mi sono stancata di svolgere quella attività perché comunque ero cresciuta, era un po' il ruolo ormai mi stava stretto perché io ero cresciuta e quindi ho passato più o meno gli ultimi due anni a cercare di capire cosa volevo fare. L'anno scorso è maturata la scelta di dedicarmi al conversation design e ha fatto sorridere anche a me perché ho pensato, ma pensa te, prima dicevo assistenti virtuali non sono botte eccetera e poi adesso sto facendo quello, però in realtà non c'è un tacco netto perché l'assistente virtuale come lo svolta e la professione per cui ho formato può crescere, può evolvere. l'unica cosa è che io questo lo dicevo sempre, lo dicevo nel corso, lo dicevo a tutte le persone che mi contattavano o che avevano problemi a trovare clienti, a fare il salto e dicevo sempre non fate attività che potrebbe fare una macchina perché sennò sì, perché rimanete senza lavoro, cioè la segretaria non esiste più per la figura professionale che risponde al telefono, risponde alle mail, è troppo limitato perché questo lo può fare, già lo fa l'intelligenza artificiale, sicuramente presto lo farà in maniera perfetta perché ovviamente l'intelligenza artificiale impara molto più rapidamente di noi, quindi anche se ora è un... Mi hai fatto venire in mente Mery due domande, una perché non hai continuato a fare l'assistente virtuale però realizzando chatbot e la seconda domanda, dopo 15 anni dipendente, poi la difficoltà di fare lo switch in un mindset imprenditoriale non è facile minimamente. Allora, la prima domanda... Se potevi continuare a fare l'assistente virtuale però specializzata nella realizzazione di chatbot. Sì, ma... avrei potuto, ma ero cresciuta troppo per continuare ad essere assistente, tra virgolette. Ah ok, ti sembrava limitativo o sempre dipendente da un ruolo all'interno. Sì, 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 perché comunque l'assistente è una persona che deve comunque secondo me avere un certo tipo di personalità, cioè quella di essere disposta, anzi avere proprio una vocazione di assistere un'altra persona e quindi di non avere l'ambizione di crescere. Se io magari lavoravo con clienti e avrei voluto essere... avrei voluto fare quello che facevano loro, non assisterli e quindi lì mi sono detto ok, c'è un'altra cosa, non solo la libertà ma anche il fatto di voler crescere e realizzare qualcosa a livello proprio imprenditoriale. Seconda domanda, se è stato difficile? Sì, assolutamente difficile perché il mondo del lavoro, ma anche l'educazione tradizionale non... almeno ai miei tempi, no? Sembra che non forma per essere imprenditori. Poi c'è tutta un'altra serie di problemi ovviamente che le tasse, eccetera, che non invogliano a mettersi... a buttarsi in un'attività imprenditoriale e quindi è difficile perché è una sfida continua. Tu cosa hai fatto o quali sono stati i passi che secondo te ti hanno incominciato? Ti sei buttata, alla fine le cose le volevi far funzionare, hanno funzionato? Sì, però poi a un certo punto mi sono resa conto che c'era una... che c'era una sorta di limitazione che ovviamente aveva a che fare con la mentalità, con il mindset per cui ho sempre lavorato con un coach che tra l'altro ho avuto la fortuna di avere coach come clienti e quindi mi sono avvicinata al mondo del coaching e secondo me è molto importante avere... cioè per crescere è ovvio... Stai parlando di business coach? Sì, 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 anche life coach perché le limitazioni che hanno a che fare con la mentalità, con il mindset ovviamente bisogna andare a cercare proprio nel profondo, no? E la vita di coppia ti aiutava perché tuo marito era allineato con quello che facevi oppure no? Il mio marito mi ha sempre appoggiato e anche... anzi lui vuole anche avere il... La paternità? La paternità dell'assistenza virtuale nel senso che... mi dice ah non l'hai detto! Ecco il motivo per cui hai lasciato! Perché è stato lui che ha sentito parlare per la prima volta di assistenza virtuale in un'intervista nella televisione argentina, quindi mi ha detto ah secondo me quell'attività potrebbe piacerti. Rivendica sempre questo fatto! Sì, sì. E senti quello che mi colpisce sempre dei chatbot che a un certo punto bisogna comunque chiamare un operatore umano, no? E quindi cercate quando lo progettate il chatbot di evitare scrupolosamente di far intervenire qualcuno di umano o già hai riconosciuto dei patern in cui dici qua è il momento di far intervenire qualcuno? Sì, non si può ancora evitare di parlare con un umano a meno che non sia per esempio come questo chatbot che sto testando, che fa terapia cognitivo-comportamentale, non prevede no? Perché in realtà è come un coach che tutti i giorni ti chiede come stai oggi, ti chiede anche se vuoi aggiungere qualcosa, però in realtà non è in grado di comprendere. Secondo me lo stanno usando, stanno usando gli input che diamo per appunto educarlo, però o per prendere dati, però non è in grado di interagire e non prevede questo chatbot che si parli con un terapeuta, quindi è possibile disegnare appunto dei, progettare i chatbot che non prevedano, però nella maggior parte dei casi no. Senti, una cosa che volevo chiederti, perché ovviamente da questo cambio dal virtual assistant ai virtual assistant, però chatbot e voicebot, tu stai tentando di fare un rebranding, un riposizionamento, quindi quali sono le sfide che stai portando avanti, come stai cercando di comunicare questo passaggio? Non è così difficile perché in realtà lo sto facendo in inglese prevalentemente e spagnolo, per cui non è visto come un rebranding perché in inglese non mi conosce quasi nessuno, cioè non è, io lavoravo prevalentemente con la piattaforma di assistenza virtuale sul mercato italiano, quindi non devo dire agli italiani adesso faccio un'altra cosa, però è difficile perché è comunque un ricominciare, nel senso dico no, ma guarda, sarò un masochista perché mi ero costruita comunque un pubblico, insomma una community, adesso devo ricominciare, però l'altra parte è anche interessante la sfida. Quindi è una buona strategia prendere un mercato, il mercato italiano, credi che sia un po' troppo indietro dal punto di vista perché dei chatbot e voicebot? No, no. O l'altro è più maturo, semplicemente? Assolutamente, vabbè, quello sempre. Però no, io ho anche collaborato di recente con un'azienda italiana che progetta proprio chatbot, per cui sì, un pochino più indietro, ma arriverà. Quindi, Mary, nel 2020 su cosa ti concentrerai in questo ambito? Due cose, creare contenuti informativi, quindi per diffondere il concetto di chatbot, perché anche se nel mercato in lingua inglese ovviamente sono avanti, però viene visto secondo me in due modi. O quelli appunto il chatbot per Messenger, oppure viene vista come una cosa irrealizzabile per un piccolo imprenditore, una PMI, perché fino a qualche tempo fa lo era, perché gli strumenti appunto come Watson, IBM, eccetera, erano molto costosi. Adesso ci sono tantissimi software, tante piattaforme che invece sono accessibili e quindi mi piacerebbe contribuire a democratizzare i chatbot e educare, insomma, le persone, i coimprenditori sull'utilizzo. Non ti fa sempre un po' paura essere, non si può parlare di pioniere, perché comunque è ormai dieci anni che si parla di chatbot, però essere sempre in un ambito in cui parli di educazione, di accollarti un po' il peso, di guadagnarti la fiducia del cliente, però il fatto che si sono abbassati i prezzi probabilmente è già un segnale che si sta democratizzando, come hai usato sulla parola. Sì, sì, sì. No, non mi fa paura, secondo me è la sfida di cui ho bisogno appunto per non stancarmi, annoiarmi di un lavoro. Ti piace andare nella parte che è ancora early stage, ancora c'è entusiasmo e motivazione? Sì, 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 mi piace ancora trovarmi, prima mi succedeva quando mi chiedevano cosa fai, ma ovunque, assistente virtuale, che cos'è? E adesso faccio chatbot. Che? Mi piace vedere quelle facce. Una cosa che mi ha colpito di te, che in un tuo articolo ho letto, che tu punti molto quando hai un'attività sull'organizzazione, quindi volevo appunto sapere cosa fai per essere produttiva, se hai una tua giornata tipo o qualcosa che nel tempo ti rende più produttiva rispetto al passato? Sì, forse adesso sono migliorata. Cerco di lavorare solo di mattina per poter avere il resto della giornata per le mie attività, quindi per vivere, perché appunto in passato non avevo vita e insomma... Così intendi per vita? Facci degli esempi. Piscina, plestra, danza, camminate. Poi adesso vivo vicino al mare, proprio lo vedo lì il mare, in un posto con 300 giorni di sole all'anno e insomma uscire, passeggiare, anche solo camminare in riva al mare. Fantastico, ma senti, credo che sia il tuo unico libro che è pubblicato su Amazon, che è Cambio lavoro, cambio vita. Cambio lavoro, cambio vita, sì. È ancora il manifesto della tua vita, cioè se ti riconosci quanti anni sono passati, non lo so esattamente, dalla pubblicazione, però erano gli anni che iniziavi la tua attività in preditoriale. Forse tre, quattro. Sì, in realtà sì, cioè mi riconosco ancora decisamente. Dici brevemente cosa racconti nel libro, anche se è un po' esplicativo il titolo. Sì, racconto appunto come sono passata a creare un'attività imprenditoriale, tutto di nuovo rispetto a quello che ho detto prima. È biografico, insomma. Sì, e poi in realtà è poco biografico, c'è tutta una parte estratta dal corso per assistenti virtuali. Quindi probabilmente è una cosa che è lì in cantiere, quella di rivederlo un attimo, ricreare una nuova edizione. Riallinearlo ad oggi, insomma. Sì, sì, sì. Perché vedevo anche che tu, in un tuo articolo, perché sono molto interessati agli articoli che stai postando, facevi vedere l'Ikigai e dicevi che è questo schema dove tu puoi dire, far incrociare le tue passioni, in cosa sei bravo e quant'altro. E di cosa il mondo ha bisogno, sì. Esatto. E tu dicevi che unisci quello che ami con quello che è utile per il mercato. E allora la domanda un po' marzulliana è dire, cos'è che ami tu principalmente? L'hai detto la libertà? Sì, a livello professionale c'è come, diciamo, qualcosa che possa essere trasformato in una professione, sicuramente le lingue, la linguistica e la comunicazione. Hai sdoganato che sembrava che fosse relegato a un ambito solo di copie e quant'altro, invece sta maturando. Si sono accorti del valore che ha? Sì, secondo me, cioè, la grande soddisfazione è quella di poter applicare le conoscenze linguistiche in una sfida che è veramente nuova, cioè che è quella di creare una conversazione il più naturale possibile con una macchina. Perché è affascinante, perché in passato si pensava solo che si potesse insegnare, pure fare, non so, il tour operator, io ne so. Sì, certo. Però ha tanti altri sbocchi e questo è uno di questi. Senti, Mary, dove ti possono trovare online chi ascolterà questo episodio? Allora, il mio sito in inglese è meritomasso.com e poi sono ovunque, sempre con il nome Merito Masso, su Facebook, LinkedIn, Twitter, lo studio. Il tuo canale social preferito è Facebook a questo momento? Tra Instagram e Facebook. Instagram mi piace perché è più visuale, quindi immediato. Riesci ad esprimerti meglio. Sì. Perfetto. Va bene, intanto ti ringraziamo Mary. Tutti i riferimenti a Mary saranno all'interno della descrizione dell'episodio. Ringrazio chi ci ha ascoltato e chi ha fatto arrivare queste domande, sempre sul gruppo Telegram omonimo Trategia IT. Chi vuole votare questo podcast lo può fare su iTunes, refactoring.it slash iTunes. E non mi resta che ringraziare di nuovo Mary e salutarla. Grazie Riccardo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.